eccomi qua buonasera con un'altra delle mie ricette elaborate anzi stasera vi stupirò visto che non vi piacciono i miei hamburger stasera vi stupirò stasera ho fatto una ricetta veramente elaborata veramente una cosa che sicuramente voi non potrete mai replicare a casa vostra ma prima di farvi vedere la ricetta di stasera scelto vi do l'informazione un'informazione importante che tra poco alle 22 e 30 saremo in live proprio qui su TikTok scelto alle 22 e 30 non mancate perché stasera mi voglio togliere tanti sassolini no da scappa dalle scarpe scelto tanti sassolini verso il conte verso qualche utente di TikTok o verso qualcuno di Facebook stasera proprio vabbè ma bando alle ciance bando alle ciance stasera non mi criticate non mi vabbè ma è una cosa semplice perché è una cosa veramente assurda quella che ho preparato scelto faccio vedere ecco qua questa è una parmigiana alla catanese senza forno vedi ho fritto le melenzane certo le ho fritte poi che c'è parmigiano scelto c'è un po di salsa comunque senza forno perché la vera parmigiana alla catanese antica come la faccio io scelto e senza forno con le mie mani ma se non sai manco come si fa e cosa c'è lo do pinzeri forse con te mangiato stasera non ne avrai stavo facendo il video no vabbè vabbè ragazzi l'ha fatta lui vabbè è un stesso eccetto a tra poco alle ore 22 e 30 su TikTok alle 22 e 30 questo mi deve rovinare sempre tutto ma rovinare sempre tutto quest'uomo no vabbè no vabbè